Salve a tutti, bentornati alla FIBS Convention 2021 con il secondo intervento sul personal branding da me tenuto che tratterà in più nello specifico gli strumenti del personal branding. Vado a presentarmi, per chi non avesse seguito il primo intervento, sono Flavia Chiarelli, dal 2016 ad oggi sono consulente di sport marketing e digital strategist per atleti, sportivi professionisti e operatori dello sport. La mia carriera nello sport marketing ha preso il via a 25 anni, grazie ad un'esperienza di stage all'interno del marketing department di Nike Italy, un vero colosso per una ragazzina appena uscita dall'università. Nike Italy, Sixty Group e Coca-Cola HBC sono state alcune delle aziende per le quali ho lavorato sempre in ambito marketing e sales. Nel 2010 ho deciso di rimettermi in gioco grazie a un master in fashion retail del Milano Fashion Institute e al termine di questo percorso formativo sono entrata da prima in stage e poi per alcuni anni all'interno dell'organico dell'azienda Tessile Biellese, il gruppo successori Reda SPA, dove mi occupavo nello specifico di marketing ed eventi per il brand di abbigliamento sportivo Revolution, 100% activewear. Ho iniziato ad occuparmi di sponsorship relativo agli atleti rappresentati dall'azienda e alle squadre delle società, acquisendo quindi le mie prime competenze sul campo in questa materia, che mi ha appassionato da subito moltissimo. Qualche anno dopo, nel 2016, ho deciso di avviare la mia libera professione come sport marketing manager. Quel che ha dato avvio ad una felice collaborazione è stato l'incontro con l'alpinista e la rocciatrice Federica Mingolla, oggi tra le più conosciute in Italia e in Europa per quanto riguarda l'arrampicata ed è anche diventata aspirante guida alpina tra poco. È stata la prima donna in libera a salire la via del pesce in marmolada nel 2016 appunto e al suo fianco abbiamo lavorato alla promozione e alla comunicazione del suo personaggio grazie ad un road tour dove abbiamo portato in giro per l'Italia, sugli schermi italiani, il suo docufilm Fish, realizzato in collaborazione con la casa di produzione foto-video Open Circle. Pensate che oggi Fish è su Prime, è distribuito su Prime, quindi è stato sicuramente un lavoro che mi ha dato grande soddisfazione e successo. In questi anni ho deciso di riunire quelle che sono state poi le mie competenze in ambito marketing e comunicazione, le esperienze acquisite grazie al lavoro con Federica e con altri atleti in un servizio, in un percorso più strutturato che si chiama UROC e che è ad oggi disponibile per tutti quegli atleti sportivi professionisti che decidano di lavorare in modo serio e professionale sulla propria comunicazione digitale, sulla propria immagine e quindi di conseguenza sullo sviluppo del personal branding. Ad oggi questo percorso ha aiutato diversi giovani promesse dell'arrampicata, del trail running, del taekwondo, della pallavolo, dell'equitazione. Non vi sono distinzioni di disciplina in questo senso. Mi sono così specializzata sul personal branding atleti, che è la mia passione, e sulla comunicazione digitale sportiva, che ad oggi seguo anche in collaborazione con il team Sport Inc, di cui faccio parte insieme al collega Andrea Nuziata. La mia mission è quella di collaborare con tutti coloro che vogliono fare dello sport, la chiave di espressione della propria immagine e una vera attività professionale. Entriamo adesso nel vivo degli strumenti del personal branding. Come abbiamo detto anche nel modulo precedente, quello sulle basi del personal branding, il personal branding è innanzitutto un lavoro su se stessi. Tutto parte dal tuo perché. Per comunicare bene, la prima domanda che bisogna farsi è chi sono io? Prima di cominciare qualsiasi discorso sui social e quindi prima di approcciare agli strumenti, dobbiamo tornare al punto base, il nostro perché. Troppo spesso oggi vedo fare da diversi atleti, la maggior parte, a dire il vero, di quelli che mi contattano, l'errore di preoccuparsi principalmente e inizialmente dello strumento, senza partire appunto da quelle che sono le basi, ovvero dai perché. Le domande che dobbiamo porci sono quindi perché siamo sui social o perché le persone ci dicono che dovremmo esserci? Qual è il vero motivo? Prima di aprire quel nuovo account o di iniziare a postare notizie relative e la nostra attività sportiva su uno specifico account piuttosto che un altro, dobbiamo davvero capire qual è la ragione che ci spinge a farlo. Cosa vogliamo ottenere dalla nostra presenza online? Quindi scendiamo ancora più a fondo. Cosa potrebbe distinguere il nostro messaggio da quello di tanti altri atleti? Quindi cosa potrebbe portare la nostra comunicazione a essere distintiva, a essere rilevante? Il comunicatore, coach Marco Montemagno, dice una frase che amo molto. Se non sai comunicare, la gente non reagisce. Se sai comunicare, la gente reagisce. Quindi quando postiamo, quando emettiamo un messaggio o facciamo una qualsiasi rappresentazione in pubblico, quello che dobbiamo chiederci è perché le persone hanno reagito o non reagito in una certa maniera. Siamo pur certi che se la nostra comunicazione sarà stata rilevante e interessante per il pubblico che vogliamo andare a colpire, le persone reagiranno. Bisogna poi vedere come. Ma questo è un altro discorso. Il primo assioma quindi del personal branding che riprendo un po' dal modulo precedente e che secondo me è sempre bene importante ricordare è conosci te stesso. E' molto importante ricordare ancora una volta questo paradigma del personal branding che ho qui voluto riportare scherzosamente con questo meme. Ogni atleta ha il suo brand. Quindi non esiste un atleta che non possa lavorare ad una corretta costruzione del proprio personal branding. Indipendentemente dalle dimensioni della propria fan base, dal volume degli ingaggi, da quanto si è conosciuti, celebri, famosi, dalla società in cui si giochi e dalla disciplina che si pratichi, ogni atleta è in grado di lavorare al suo brand. Come si fa? Come si parte? Allora, intanto bisogna avere ben chiara quella che è una strategia. Cioè non si può partire così a caso, come abbiamo detto, iniziando ad occuparsi degli strumenti senza prima mettere nero su bianco una strategia. Che cos'è una strategia? Una strategia è una roadmap. È una mappa, è un farro guida che ci indica come arrivare dal punto A al punto B. Quindi quali sono le azioni più idonee, efficaci, che ci consentono di arrivare in tempi definiti e con modalità e strumenti che conosceremo in partenza dal punto A al punto B, ovviamente affrontando gli imprevisti del caso. D'altronde ti lanceresti in una gara importante senza un adeguato allenamento, senza conoscere il terreno, improvvisando magari il giorno stesso, lo schema di squadra, direi proprio di no. La tua strategia di comunicazione rappresenta il tuo farro guida. Grazie ad essa saprai sempre e in ogni momento, anche quando ti sembrerà di esserti un po' perso, come stai comunicando, cosa stai comunicando, a chi, con quali strumenti e il tuo perché. Quello non dobbiamo mai perderlo di vista. Come possiamo definire una strategia? Allora, esistono diverse definizioni del termine strategia a seconda del contesto in cui questo viene utilizzato. Possiamo avere una strategia organizzativa per un'azienda, una strategia militare, una strategia comunicativa. Tutte le definizioni hanno in comune i seguenti punti. La definizione di obiettivi a lungo termine, lo sviluppo di azioni miranti a orientarci verso gli obiettivi prefissati, l'acquisizione e allocazione delle risorse necessarie per costruire e difendere vantaggi sui concorrenti. Sono elementi molto importanti, come vedete, che troppo spesso vengono trascurati nel momento in cui andiamo ad occuparci della nostra comunicazione e del nostro personal branding. Una delle prime questioni ad ogni modo da affrontare, non mi stancherò mai di ripeterlo, quando si costruisce la propria strategia, quando si definiscono gli obiettivi, le azioni volte a raggiungerli, l'acquisizione e l'allocazione delle risorse, è perché un'azienda, un progetto, dovrebbero scegliere me e non un altro? Perché un potenziale sponsor dovrebbe interessarsi a me? Cosa ho io da offrire di diverso rispetto agli altri? Cosa succederà se mi danno retta e iniziano a seguirmi? Non chiederci, non mi seguiranno mai, è inutile che io lo faccia perché tanto non avrà nessun tipo di risultato. Una buona strategia di comunicazione e di personal branding è quell'insieme di strumenti che mi consente in un periodo di tempo definito di arrivare a farmi conoscere ed essere rilevante per il mio mercato e il mio pubblico di riferimento. In questa frase sono concentrati degli elementi su cui torneremo davvero molto importanti. Il tempo, quindi dobbiamo ricordarci che è una buona strategia per arrivare dal punto A al punto B ha sempre un lasso di tempo ben definito e siamo proprio noi stessi a stabilirlo. Gli strumenti e le azioni, quindi dobbiamo conoscerle e definirle in anticipo, il mercato di riferimento, quindi sarà nel nostro caso il mercato sportivo di riferimento e il pubblico di riferimento. Dobbiamo sempre aver presente a quale pubblico stiamo parlando. Quindi anche l'audience alla quale ci rivolgiamo è una parte integrante della strategia di comunicazione e di personal branding. Andiamo ancora più a fondo di questi passaggi. Allora, primo passaggio per la costruzione della strategia definisci con cura i tuoi obiettivi. Quando lavoro con i miei atleti one to one, ad esempio nel percorso di UROC o all'interno di consulenze personalizzate o nell'ambito di percorsi di formazione come questo, ad esempio dei workshop, un esercizio che propongo e che trovo sia davvero semplice quanto potente è quello delle priorità, che arriva proprio a definire gli obiettivi. Individua cinque priorità da ottenere per la prossima stagione sportiva. Tra queste riducile a tre, quindi ce ne saranno solo tre davvero importanti e di queste ce ne sarà una che sarà il tuo big goal, cioè quella alla quale non potrai assolutamente rinunciare, quella sulla quale lavorerai sodo tutto l'anno. Quella, quella priorità lì, sarà il tuo obiettivo, sarà l'asse portante di tutta la tua comunicazione, sarà il tuo faro nella nebbia. Due, scegli il tuo pubblico. Abbiamo parlato prima di quanto conoscere il pubblico di riferimento e capire con chi vogliamo parlare prima ancora di emettere qualsiasi tipo di messaggio sia molto importante. A chi vuoi parlare in maggioranza? Scegli un solo target e cerca di concentrarti su quello. Cosa vuol dire un solo target? Un atleta potrebbe avere come target di riferimento diversi interlocutori. Ci possono essere gli interlocutori più istituzionali, come ad esempio le federazioni, le società sportive, le istituzioni legate al mondo dello sport, le istituzioni politiche, anche se vogliamo. Ci possono essere invece degli interlocutori più informali, come gli altri colleghi di squadra, gli avversari, gli amici, compagni e così via. Ci possono essere i fan, quindi diciamo coloro che rappresentano un audience non di sportivi veri e propri, ma di appassionati e molto altro. Quando stiamo emettendo un determinato messaggio, dobbiamo avere ben chiaro in mente a quale pubblico vogliamo rivolgerci. Non possiamo emettere un messaggio che voglia arrivare indistintamente a tutti i pubblici. Comunicare a tutti vuol dire non comunicare a nessuno. Fai attenzione a scegliere un pubblico funzionale al tuo obiettivo. Il resto verrà da sé man mano che finirai la strategia. Non avere paura di perdere possibilità restringendo il pubblico. Non pensare eh ma se parlo alle aziende non arriverò ai fan o viceversa. Ricorda che parlare a chiunque vuol dire appunto non parlare a nessuno. E ci sono dei metodi delle strategie attraverso l'utilizzo corretto dei canali e degli strumenti che ti permettono di parlare anche a più target contemporaneamente ma in modo efficace in modo selettivo e non in modo indistinto e generalizzato. E questo ovviamente ci si può lavorare nell'ambito di una corretta strategia di comunicazione e personal branding. Terzo punto della costruzione della strategia di comunicazione seleziona i canali davvero più giusti per te. Chi l'ha detto che devono essere solamente Facebook e Instagram perché oggi sono quelli che si dice vadano per la maggiore poi qui si potrebbe aprire tutto un discorso ma lo lascio al collega Andrea Annunziata per quanto riguarda le caratteristiche più intrinseche dei social stessi. I social sono davvero un mondo a sé una varietà talmente grande talmente ampia che bisognerebbe aprire capitoli su capitoli a parte e inoltre si trasformano continuamente dal primigenio Facebook al seguire di Instagram da YouTube oggi davvero re per quanto riguarda le affiliazioni e la monetizzazione online LinkedIn che spesso viene sottovalutato soprattutto dai giovani e in particolar modo dal mondo sportivo e dagli atleti in realtà ha un ampio seguito e delle finalità molto molto importanti se si vuole arrivare a parlare con gli interlocutori professionali giusti per arrivare infine a quelli un po' più di entertainment intrattenimento come Clubhouse e TikTok sui quali non ci addentreremo anche a causa delle gravose criticità che hanno dal punto di vista della privacy. Come ci si può orientare in tutto questo panorama più variegato? Io quello che diciamo trasmetto è di ricordare che devi comunicare laddove il tuo pubblico i tuoi interlocutori ti intercetteranno non esiste un canale giusto per chiunque per ogni tipo di atleta per ogni disciplina valido per tutti non esiste un metodo universale la strategia serve proprio a capire questo a costruire un metodo che sia efficace e personalizzato su di te tutto dipende dagli obiettivi che vuoi raggiungere e dal da lì deriveranno in base agli obiettivi il pubblico che vorrai intercettare e quindi i canali gli strumenti da utilizzare infine elemento sempre trascurato da chi si occupa di personal branding e di comunicazione in autonomia è quello del monitoraggio dei risultati io oggi voglio proprio trasmettervi l'importanza di questo aspetto è davvero controproducente frustrante per non dire inutile concentrarsi molto sulla costruzione del proprio personal branding su questo tipo di lavoro se non si vanno periodicamente a monitorare i risultati e al termine di questo intervento se avrete la pazienza di ascoltarmi vi indicherò una modalità semplicissima per farlo da soli in modo efficace e pratico prenditi del tempo periodicamente per ritornare sul tuo lavoro dopo la strategia durante la strategia segnati i progressi segnati gli indici di gradimento dei tuoi post sui vari social fallo a mano fallo su un foglio excel fallo come vuoi su un quadernino che utilizzerai o sulle note del cellulare cerca di analizzare periodicamente ogni settimana sarebbe meglio ma anche ogni mese le statistiche di alcuni contenuti piuttosto che di altri per vedere come il tuo pubblico sta reagendo per capire se la strategia che stai seguendo nella costruzione del tuo personal branding è adeguata o se invece dovrai affinare il tiro in qualcosa gli strumenti del personal branding sono moltissimi come abbiamo detto il personal branding è un po' un macro sistema che diciamo si costella di numerosi aiutanti chiamiamoli così che ho voluto qui riassumere in questa slide che sembra proprio una costellazione di pianeti al centro abbiamo il personal branding e intorno abbiamo tutta una serie di elementi che lo vanno a costituire voglio proprio dare l'idea di un sistema integrato quindi non si può lavorare solamente su uno o due trascurando completamente tutti gli altri al tempo stesso è chiaro che soprattutto se si lavora in autonomia ma anche se ci si affida ad un professionista bisognerà individuare quali sono tra questi strumenti quelli prioritari e più idonei più efficaci diciamo per noi per gli obiettivi che vogliamo raggiungere ma in linea di massima ve ne sono alcuni dai quali proprio non si può prescindere abbiamo parlato dei social media tools quindi del variegato mondo di LinkedIn Facebook Instagram Clubhouse YouTube ma in realtà sono come vi dicevo quasi un punto d'arrivo rispetto a tutto il resto il primo punto da considerare all'interno di una strategia è l'analisi SWOT cioè l'analisi dei propri punti di forza e di debolezza e da questi si può partire per caratterizzarsi in modo unico e distintivo le nostre credenze i nostri valori e di riferimento non mi andrò a ripetere su questo perché ne abbiamo già parlato nel primo modulo anche la nostra presenza in pubblico quindi quando partecipiamo alle diciamo ai campionati ai tornei alle partite ma anche soprattutto ospitate quando torneranno ad esserci eventi fisici diciamo al termine della pandemia ma adesso ci sono moltissimi eventi virtuali che ci possono vedere protagonisti le famose dirette di Instagram le live streaming le dirette su Facebook i webinar insomma molte presenze pubbliche possono caratterizzare il nostro personal branding anche i rapporti con i nostri sponsor le partnership che andiamo ad effettuare lavorano alla costruzione della nostra immagine del personal branding dell'opinione che le persone si andranno a fare di noi quindi ricordiamoci che il personal branding è l'insieme delle opinioni delle credenze che le persone si fanno di noi come vogliamo essere ricordati come vogliamo essere visti grazie a tutti questi strumenti siamo noi che abbiamo il controllo non dobbiamo permettere agli strumenti di avere loro il controllo su di noi la nostra visual identity quando abbiamo parlato nel primo modulo di atleti forti dal punto di vista del personal branding mi è piaciuto sottolineare come atleti quali Valentino Rossi piuttosto che Vanessa Williams per citarne alcuni ma insomma oggi moltissimi sono davvero attenti a quello che è il loro look ma non solo in termini di mode ma in termini di caratterizzazione cioè di elementi dettagli distintivi che ritornano sempre all'interno della loro comunicazione e delle loro presenze può essere una cromia come il giallo per Valentino Rossi può essere un vezzo dell'acconciatura o del look che decidiamo di utilizzare dentro e fuori dal campo in ogni modo ci dovrà essere qualcosa che ci contraddistingue che ci rende riconoscibili blog e sito web spesso è un po' una bestia nera poi lo andremo un pochino ad approfondire ma è davvero importante concentrarsi sui canali proprietari purtroppo molto spesso si fraintende un po' il concetto di lavorare bene sulla propria comunicazione pensando che basti aprirsi un account su qualche social per essere presenti in maniera efficace sul web in realtà non è assolutamente così blog e sito web sono canali proprietari cioè sono canali di cui voi acquistate l'hosting pagate un hosting acquistate un dominio di conseguenza siete padroni di quello spazio virtuale casa vostra cosa che invece non succede con i social media in quanto sono comunque proprietà di aziende terze quindi come ad esempio Mark Zuckerberg Zuckerberg è proprietario di Facebook e di Instagram di conseguenza sono loro a decidere le regole di quel territorio non siete voi nel momento in cui voi avete depositato il vostro sapere i vostri contenuti i vostri materiali su questo tipo di piattaforme sappiate che viene liberamente padroneggiato ovviamente con delle condizioni di privacy ma in ogni caso non siete voi a decidere le regole ma voi aderite alle regole di qualcun altro cosa diversa invece per contenuti che divulgate all'interno di un blog o di un sito web l'atleta si fa digital allora il digital marketing ad oggi è davvero centrale per il mondo dello sport io vorrei riportarvi un po' questa datata citazione ripresa dal Clue Train Manifesto un'importante corrente comunicativa del 1999 i mercati sono conversazioni è cominciata a livello mondiale una conversazione vigorosa attraverso internet le persone stanno scoprendo inventando nuovi modi di condividere le conoscenze pertinenti con incredibile rapidità come diretta conseguenza i mercati stanno diventando più intelligenti e più veloci della maggior parte delle aziende i mercati sono conversazioni quindi pensate bene come oggi le vostre conversazioni pubbliche possano diventare oggetto di personal branding e di mercato le persone oggi stanno sui social network per intrattenere conversazioni intorno a un marchio un evento un argomento un personaggio famoso politico intorno a tematiche condivise tra queste sicuramente lo sport lo fa da padrone lo sport era sempre rappresentato uno dei principali fenomeni aggregativi pensiamo al bar sport quello dove si riunivano non dico i nostri genitori ma sicuramente i nostri nonni magari anche i nostri genitori dove un tempo si sfogliava la gazzetta si guardava la partita si commentavano le performance dei campioni di riferimento oggi il bar sport è internet e in particolare un social network piuttosto che l'altro quindi è importante esserci nel modo giusto cosa cambia? cambia che oggi possiamo controllare noi in questo modo di esserci diversamente da come era un tempo blog e sito web ne abbiamo già parlato nella panoramica generale quindi vi ripeto solo qualche passaggio fondamentale oggi essere presente su una propria piattaforma online della quale si possiede dominio hosting è molto importante della mossa più vincente che tu possa pensare di fare quindi se vuoi essere intanto un atleta che è un passo avanti rispetto agli altri soprattutto in discipline diciamo passatemi il termine secondari rispetto magari a quelle più mediatiche allora aprirsi un sito web professionale facendosi aiutare da un webmaster su una piattaforma open source come può essere wordpress che voi potete modificare e gestire in maniera dinamica quindi senza dover attendere l'intervento di qualcun altro e tenere sempre aggiornata magari con una sezione blog è davvero una scelta intelligente il blog vi darà la possibilità di costruire uno spazio davvero vostro di popolarlo di approfondire la vostra visibilità le vostre credenze le vostre opinioni raccontare il vostro modo di vivere lo sport dove anche i vostri sponsor potranno comparire ed essere citati all'interno degli articoli pensate che grande opportunità di visibilità per gli sponsor essere all'interno di un sito web che viene poi indicizzato su google e visto da milioni di persone una volta aperto il blog sarà importante costruire un calendario editoriale ne parleremo dopo che sia sostenibile con i tuoi impegni che si integri bene con la tua strategia di comunicazione e visibilità quindi non postare a caso ma seguire anche qui una strategia qual è il metodo per pubblicare in maniera intelligente su questi strumenti content is the king diceva qualcuno allora un metodo che io trovo abbastanza semplice e immediato per capire come alternare la tipologia di contenuti all'interno di questi strumenti è quello diciamo di distinguere i contenuti promozionali quindi che è la prima tipologia i contenuti utili e i contenuti coinvolgenti i contenuti promozionali hanno come obiettivo quello di vendere te e quello che fai sono contenuti di tipo ego riferito quelli dove parli della tua ultima gara del tuo ultimo ritiro di un evento di un video che hai realizzato di un progetto che in qualche modo vuoi vendere o di cui vuoi parlare la loro percentuale nell'insieme dei contenuti in calendario non deve essere più alta del 20% quindi considerate che non si sta sui social tra virgolette per vendere ma per conversare con le persone per intrattenere conversazioni con il proprio mercato di riferimento quindi non bisogna essere troppo autoreferenziali non bisogna inondare di contenuti effetto bolla del tipo ho vinto questo ho fatto quello ho fatto quest'altro ma cercare di alternarli con i contenuti che vedremo adesso contenuti utili hanno come obiettivo quello di informare e aiutare il pubblico sono quei contenuti che contengono notizie utili al tuo pubblico e che gli fanno pensare che valga davvero la pena di essere seguiti i contenuti utili a te magari possono sembrare troppo banali o facili non interessanti per chi ti segue ma in realtà chi ti segue o vorrebbe seguirti non vuole troppo tecnicismo da te o fare per forza il tuo stesso lavoro ricorda sempre che stai parlando con diversi target e quindi a ognuno di essi dovrai dedicare dei contenuti con un tono di voce e degli argomenti specifici un esempio di contenuti utili potrebbe essere una tipologia di allenamento una particolare regime alimentare che ti aiuta a essere più performante dei tricks e tips rispetto a come giocare meglio in campo a come concentrarti e via così ogni volta che stai postando pensa ai tuoi pubblici e ricorda che non stai per forza parlando degli esperti di settore gli esperti saranno pochi in termini di numeri online il vero traffico ti arriverà dal pubblico di appassionati e amatori che via via inizierà a seguirti e infine i posti coinvolgenti forse quelli che più tutti amiamo quelli che hanno l'obiettivo e di divertire e intrattenere i veri post di successo su Facebook e non solo ricordati sempre che questa piattaforma come anche altre nascono per l'intrattenimento e l'informazione leggera soprattutto Facebook Instagram nasce per un intrattenimento di tipo visuale e instant moment come ad esempio adesso può essere con i real e le stories le persone che ti seguono passeranno su Facebook per trascorrere due minuti di pausa in ufficio come responsabili marketing delle aziende a scuola o all'università per scoprire cosa stai facendo cosa hai da dire sono quei contenuti virali che le persone hanno piacere di diffondere e di condividere tra i loro contatti quindi alternando queste tre tipologie all'interno del tuo calendario editoriale riuscirai ad ottenere una comunicazione empatica rilevante ed efficace un altro strumento sicuramente che forse non sembrerebbe far parte del personal branding ma in realtà ne fa parte come è la gestione delle sponsorship cenni sulla sponsorship proposal la sponsorizzazione non è una donazione ma deve essere vista come un profico scambio bilaterale tra lo sponsor cioè l'azienda e lo sponsor ovvero l'atleta ecco alcune domande che dovresti porti prima di approcciare con la ricerca sponsor cosa intendo quando dico che voglio raccogliere sponsor quanti ne vorrai ottenere per quali categorie merceologiche in che cosa potrei essere utile a questi sponsor ho pensato con attenzione a cosa posso fare per loro quanto tempo della mia vita dei miei impegni sono disposto a dedicare le loro richieste extra agli allenamenti alle gare quindi eventi quando si tornerà a presenziare conferenze shooting presentazione di prodotti contest sono tutti impegni che uno sponsor potrebbe giustamente richiedere ad un atleta di riferimento e in questo caso dobbiamo essere ben consci di quanto tempo e quanto impegno possiamo dedicare e magari dichiararlo la sponsorizzazione non è una donazione non è beneficenza non ci stanno regalando qualcosa perché ne abbiamo bisogno ma deve essere vista come un proficuo scambio bilaterale cioè devi sempre chiederti prima di chiedere denaro o comunque che cosa ti possono offrire fai tu presente che cosa puoi offrire loro il primo contatto come avviene avviene attraverso uno degli strumenti che io amo citare all'interno del personal branding come la sponsorship proposal o lettera di sponsorizzazione presentarsi in modo educato professionale distintivo e competente nei confronti del destinatario è un approccio corretto anche questo è personal branding la sponsorship proposal fa da diciamo aprivista a quello che è il media kit atleta che cos'è il media kit atleta allora intanto vi racconto questo molto spesso anzi generalmente quando vengo contattata da un atleta per diciamo un supporto una collaborazione ricevo da parte sua un curriculum sportivo generalmente in Word con decine e decine di punti elenco con risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni fino ad oggi ecco quello non è il media kit atleta il media kit atleta è un documento grafico accattivante in formato pdf che si accompagna alla lettera di sponsorizzazione questi sono i punti fondamentali che secondo me un buon media kit atleta dovrebbe avere chi sei quindi un about me qual è la tua carriera sportiva i risultati ottenuti sicuramente ma in modo conciso sintetico e chiaro magari evidenziando i punti rilevanti gli obiettivi sui quali stai lavorando ovviamente parliamo di obiettivi sportivi ma se ci sono anche degli obiettivi di vita o di carriera quali può essere entrare in un gruppo sportivo piuttosto che laurearsi in una particolare disciplina o seguire una formazione specifica in ambito tecnico indichiamolo le tue eventuali uscite stampa in media quindi una sorta di rassegna stampa all'interno del media kit i tuoi canali attivi sul web e anche le statistiche di gradimento tutto questo fa vedere che ci sai lavorare che ci sai fare oggi le aziende come sappiamo guardano sempre di più questo aspetto del digital i tuoi recapiti e contatti sembra banale ma molto spesso mancano e poi non sanno come contattarci per essere efficace arrivare a colpire i referenti aziendali ai quali ti stai rivolgendo devi essere accompagnato da belle immagini fotografiche quindi immagini che ti rappresentino sì come atleta in campo ma anche come persona quindi che facciano esaltare venire fuori quelle che sono le tue caratteristiche uniche ditemi se questo non è personal brand il media kit atleta non è la replica del tuo curriculum in world questo lo ripeto ancora parliamo anche di ufficio stampa ufficio stampa oggi è un po' superato come termine oggi diciamo che le pubbliche relazioni sono state sostituite dalle digital PR per il suo naturale assetto l'atleta professionista basa gran parte della sua vita sulla fiducia economica che gli sponsor ripongono in lui sulle attività di promozione ed esposizione della partnership tra il brand atleta e lo sponsor stesso quindi a fianco delle azioni di branding che abbiamo già citato riveste in particolare importanza la figura dell'atletto stampa per quanto riguarda le società e le federazioni sportive ma non tutti gli atleti hanno un addetto stampa personale spesso se ne occupano da soli quindi così come questa figura si è largamente modificata anche l'atleta può trarre vantaggio da questa evoluzione quindi chi è l'addetto stampa dell'atleta oggi? è l'atleta stesso che diventa uno storyteller attraverso le digital PR attraverso le pubbliche relazioni l'atleta può diciamo veicolare le notizie che più gli interessano può rendere pubblici i propri successi le proprie novità le cose che vuol comunicare magari contattando lui stesso le redazioni media le redazioni web e costruendosi diciamo una piccola rassegna stampa personale che poi deve sempre essere aggiornata e resa disponibile ad ogni contatto ecco qui la promessa che vi avevo fatto inizialmente ovvero un metodo semplice immediato e a mio avviso veramente attuabile da chiunque per lavorare sul sulle KPI cioè sul Key Performance Indicator ovvero quei fattori chiave che ci danno una misura del buon andamento o meno delle azioni condotte in tema di personal branding è un metodo per cominciare a monitorare le nostre azioni e capire se stiamo andando nel verso giusto o se invece dobbiamo affinare il tiro qui ovviamente ho fatto solo un piccolo elenco ma all'interno potete davvero metterci qualunque cosa primo luogo aver presenti gli obiettivi personal branding e promozione il risultato sono stato contattato da aziende legate al baseball softball metrica di misurazione numero di mail che ho ricevuto dirette a me o alla federazione di direct message su Instagram o su Messenger quindi questo ci darà l'indicazione di come quella particolare azione è andata cioè volevo promuovermi volevo affinare il mio personal branding cosa ho fatto ho contattato diciamo delle aziende eccetera sono stato ricontattato mi hanno risposto e via dicendo promozione ho ottenuto il mio primo sponsor con budget ho aperto trattative con altri quante proposte di incontro di contatto o ancora meglio quanti contratti da firmare ho ricevuto nel corso degli ultimi mesi sei mesi di solito questo lavoro si fa ogni sei mesi un anno non di più ho aumentato la mia popolarità tra i giornalisti di settore quindi questo vuol dire che ho lavorato bene come lo capisco lo capisco con il numero di mention di interviste di articoli stampa e web quindi elencare sempre quelli che sono gli obiettivi i risultati e quali sono le metriche di misurazione che mi aiuteranno a capirlo ovviamente nelle colonne successive voi indicherete il numero di asset di testimonianze che comunque avete quindi non so le email le telefonate cioè collezionate tutto quello che vi arriva attraverso i vari canali che oggi abbiamo a disposizione infine ho aumentato il mio personal branding la mia notorietà la mia brand awareness perché sono stato annotato da colleghi addetti dello sport come lo capisco lo capisco dal mio tasso di engagement rate su Instagram che è salito lo capisco dai commenti dal numero delle condivisioni dalle iniziative di visibilità che sono state avviate con altri partner ad esempio iniziative legate a cause sociali beneficenza e via dicendo quindi come vedete chiunque oggi può lavorare sui key performance indicator ancora prima diciamo di lavorarci insieme ad un professionista posso comunque iniziare in modo autonomo intanto a capire qual è lo status delle cose fare una fotografia dello stato attuale e poi a lavorare a seguire su come adestare il tiro rispetto alle mosse future che andrò a svolgere per concludere tutto fa personal branding come avete visto ci sarebbe ancora molto altro da dire in tema di strumenti anche lo status di Whatsapp fa personal branding e quindi mi raccomando pensateci bene ogni volta che comparite in pubblico ogni volta che scrivete e postate qualcosa ogni volta che emettete una qualsiasi forma di espressione visiva verbale paraverbale in pubblico sappiate che state lavorando consapevolmente meglio o inconsapevolmente al vostro personal branding io vi ringrazio per l'attenzione se volete approfondire le tematiche del personal branding mi trovate su www.flaviachiarelli.it che è il mio sito dove ci sono anche diversi articoli nel blog relativi a questo argomento e vi auguro di lavorare al meglio su questo aspetto buon proseguimento grazie 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 a tutti